Una sorpresa è una conferma ai mondiali. La sorpresa è arrivata dall'Arabia Saudita di Harvey Renard che dopo essere andata sotto contro l'Argentina su un rigore segnato da Messi ha ribaltato il risultato. I gol di Shemri e Davsari hanno messo al tappeto una delle favorite per la vittoria finale. Non ha fallito invece la Francia che dopo essere andata in svantaggio con l'Australia ha rifilato quattro gol al modesto avversario. Il primo lo ha segnato Rabiot. Grande protagonista è il milanista Olivier Giroud che ha realizzato una doppietta raggiungendo Henry a quota 51 reti. In gran serata pure Mbappé. Un gol e un assist. La Francia campiona del mondo ha fatto la voce grossa. Niente gol in Danimarca Tunisia e in Messico Polonia. Lewandowski si è fatto parare un rigore. Nel girone C Arabia Saudita in testa seguita da Polonia e Messico. Argentina zero punti. Nel raggruppamento di Francia prima Danimarca e Tunisia a un punto. Ora aspettiamo i risultati della Croazia di Modric, della Spagna di Morata, della Germania di Müller, del Belgio di Lukaku e soprattutto il basile di Neymar e Tiago Silva favorito per il titolo. Il tutto mentre Ronaldo cerca casa e il mondiale sta entrando nel vivo.